buona giornata a tutti mettiamo la nuova settimana l'ultima settimana senza eucalistie aperte a tutti ringraziamo il signore perché ormai vediamo la meta vicina lunedì prossimo 18 celebreremo insieme ascoltiamo il vangelo di giovanni che come i giorni precedenti ci racconta il dialogo che gesù ha con i suoi discepoli durante l'ultima cena intervengono come abbiamo visto alcuni discepoli a fare anche delle domande abbiamo sentito pietro abbiamo sentito tommaso filippo oggi sarà giuda non riscariota quello che in altri vangeli chiamato giuda taddeo quello forse che ha scritto l'ultima lette una lettera la lettera di giuda che troviamo nel nuovo testamento ascoltiamo dunque il testo in quel tempo gesù disse ai suoi discepoli chi accoglie i miei comandamenti li osserva questi è colui che mi ama chi ama me sarà amato dal padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui gli disse giuda non l'iscariota signore come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo gli rispose gesù se uno mi ama osserverà la mia parola e il padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia ma del padre che mi ha mandato vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi ma il paraclito lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto in questo testo riconosciamo innanzitutto una meravigliosa promessa che gesù fa ai suoi discepoli se è vero che lui deve partire e la partenza è la sua morte in croce è anche vero che questa partenza non segnerà l'allontanamento di gesù ma appunto come ha già detto lui ritornerà e allora se si verificano alcune condizioni che adesso il vangelo elenca allora sarà possibile fare un'esperienza intima profonda della presenza sua ancora più forte di quando lo vedevano vivo vicino a loro e le condizioni perché questo avvenga sono queste innanzitutto accogliere i suoi comandamenti il suo comandamento fondamentale che è l'amore e le altre parole che lui ha detto osservarle allora quando si conservano le parole e le si osserva e si mette in pratica allora avviene un incontro un incontro con gesù che ritorna cioè il risorto ma non viene soltanto lui ecco la bellissima frase che gesù pronuncia se uno mi ama e osserva e conserva cioè la mia parola il padre mio lo amerai noi gesù il figlio risorto il padre verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui cioè faremo casa presso di lui e perché questo avvenga gesù anche promette un aiuto il paraclito il consolatore cioè lo spirito santo che il padre porterà come dono che invierà come dono nel nome di gesù ecco siamo inseriti dentro il vertice della della vita trinitaria ecco lo spirito santo aiuterà ciascuno di noi non soltanto a conservare e osservare le parole di gesù ad amare il padre ma ci insegnerà cioè ci aiuterà a capire ci ricorderà le parole di gesù e le farà diventare comprensibili per noi dunque una prima parte del vangelo oggi ci apre a questa esperienza misteriosa che è quella dell'incontro con la trinità che fa casa dentro la nostra vita fra poco celebreremo la festa della parizione di fatima mercoledì e mi veniva in mente proprio commentando questo testo che apre un'esperienza che sembra impossibile ricordare quello che è capitato alla piccola lucia quando ha fatto la prima comunione si racconta che lucia che non sapeva leggere e scrivere aveva soltanto sei anni impara il catechismo dalla mamma e la mamma la prepara così bene che quando si prepara all'esame il paroco è costretto a dare la prima comunione anche se troppo piccola e la mamma le dice quando la piccola va a fare la comunione chiedi a gesù che abbia cura del tuo cuore soprattutto chiedigli che faccia di te una santa e lucia racconta appena il sacerdote abbia posato sulle mie labbra l'ostia divina la presenza di dio mi divenne così sensibile come se lo vedessi e lo sentissi con i sensi del corpo gli indirittai dunque le mie suppliche signore fa di me una santa conserva il mio cuore sempre puro solo per te qui mi parve dice sempre lucia che il nostro buon dio mi dicesse nel fondo del cuore la grazia che oggi ti viene concessa rimarrà viva nella tua anima e produrrà frutti di vita eterna mi sentivo così trasformata in dio così sazia del pane degli angeli che mi fu poi impossibile prendere cibo dopo aver fatto la prima comunione ecco anche noi possiamo ricordare adesso che ne abbiamo sentito la mancanza come viviamo l'incontro nell'eucarestia è veramente dio che viene abitare in noi lo prepariamo con l'incontro lo conserviamo lo prolunghiamo dice luciani che quando andate a trovare lucia cardinal luciano andate a trovarla e ha avuto un famoso dialogo di cui hanno parlato tanto i giornali lui ai fedeli qui della diocese di venezia ha scritto mi ha parlato con tanta energia e convinzione di suore sacerdoti cristiani dalla testa ferma era dice sempre il cardinale luciani a proposito di lucia così radicale dicendo utodo unada o tutto o niente se si vuole essere di dio sul serio ecco io credo che un desiderio che dobbiamo alimentare adesso in questo cammino verso l'eucarestia riconquistata è che realmente diventi esperienza di incontro con il signore la seconda parte del vangelo diventa più difficile in un certo senso da accogliere è suggerita appunto dalla domanda di giuda non l'iscariota signore come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo come mai le volte siamo in pochi come mai abbiamo l'impressione che l'annuncio di gesù cada nel vuoto per tante persone abbiamo questa sensazione e abbiamo paura anche nel ricominciare di doverci contare di trovarci in pochi perché o signore tu non sei capace di convincere tutti se tu ci hai chiamato alla fede perché in certo senso noi non per grazia ma abbiamo capito che tu hai parole di vita eterna e altri invece no poteva essere anche per i primi cristiani una vera e dura domanda come mai gesù quando sei risolto non sei apparso a tutti e li hai convinti della tua resurrezione come mai il popolo di israele che è stato il depositario delle promesse non ha accolto la tua parola è una domanda dura come mai il mondo ti ha rifiutato la risposta non è facile però a noi che ci poniamo questa domanda ed è importante e ringraziamo giuda non riscariota che ci suggerisce questa domanda che dobbiamo avere sempre a cuore tutti i fratelli tutto il mondo ecco la risposta sta da una parte che evidentemente essendo la venuta di gesù del padre dello spirito legata all'amore l'amore è libertà ed ecco che già fin dal prologo san giovanni ha detto che veniva nel mondo la luce vera venne tra la sua gente ma il mondo non lo ha riconosciuto lui era la luce che voleva illuminare il mondo e gesù è stato mandato dal padre che ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio però il mondo può diventare ostile al signore perché la risposta sta nella libertà questa è una prima risposta la libertà non costringe proprio perché dio rispetta la nostra libertà non ci costringe nello stesso tempo quando anche a gesù hanno detto ma insomma la tua predicazione è piccola non ha effetti grandi ha risposto che il regno di dio si sviluppa come un seme che ha una energia potente pur avendo inizi piccoli oppure con un piccolo pugno di lievito che poi si fa lievitare tutta la pasta e quindi dobbiamo aver fiducia che realmente il bene il sì che noi facciamo al signore è un bene che è per tutti e che porterà frutto anche frutti insperati che noi non vediamo e dobbiamo avere come una visione aperta come l'apocalisse che dice certo ci sono i 144 mila quelli ufficialmente che hanno aderito al signore ma poi c'è una folla sterminata di persone che vengono accolti nel che vengono accolte nella gerusalemme celeste quindi dobbiamo avere un ottimismo anche se abbiamo l'impressione che tanti dicano di no il regno di dio cammina per strade che noi non conosciamo e il terzo aspetto allora può essere proprio quello che nella nostra preghiera nel nostro desiderio di santità di unione al signore abbiamo sempre anche l'energia forte per pregare per tutti per avere il cuore aperto per desiderare il ritorno dei nostri fratelli per pregare per la conversione anche qui era uno dei temi legati all'esperienza dei tre pastori di fatima che hanno sentito dire pregate per la conversione pregate per la conversione dei peccatori e giacinto il piccolo giacinto muore dicendo a luci ecco io vado a consolare gesù per il no di tante persone chiediamo al signore allora questa duplice esperienza da una parte un'esperienza intima profonda della presenza di dio in noi dall'altra il desiderio e la missione di pregare per quelli che ancora hanno detto di no per per quelli che ancora non conoscono l'amore misericordioso di dio